I monaci sono già pronti per il rituale, sono in tutto 6, anzi sono 7, anzi sono 8. Il Nak è ancora lì che sta facendo dei rituali insieme a Morquan, sarebbe colui che prepara le offerte e dirige il rituale. Insieme di più sono 3, 6, 8, 10 monaci. Pronto per entrare dentro il tempio, lo portano in collo. Deve battere 3 colpi alla porta. Ecco i cestini, dentro c'è la moneta. Dentro ci sono i soldi, le monete, è una buona fortuna, un buon aspiccio. Roma dimenticcio. La natura diينirrelassato. Sì, è messo la stessa, non molto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.